I graffiti di Oscar Oscar è un ragazzo svogliato che ha perso l'interesse per la scuola. Per raggiungere la scuola prendo il treno tutte le mattine su chi viaggia anche un altro ragazzo. Ma chi è? Non va a scuola? E perché rimani in stazione di nottardi? Oscar inizia a seguire il ragazzo. Ciao, chi sei? Che fai qui? Mi faccio chiamare gli acoliti, sono un mio affidato. Se ti interessa puoi venire con me. Un giorno vengono beccati entrambi dalla polizia ferroviaria. Oh no, ci hanno beccati! Scappa! Ehi, che state facendo? Fermatevi! Forse siamo stati troppo duri con lui. Sì, hai ragione. Ha solo scoperto un mondo nuovo. I graffiti hanno risvegliato in lui la voglia di fare. Con l'aiuto dei genitori, Oscar inizia a pensare che il mondo scoperto e la sua nuova amicizia con i necovitti non siano del tutto una cosa negativa. Questa storia è ispirata all'uncignolo e all'insegnamento che non bisogna seguire le cattive compagnie, ma ragionare con la propria testa. Grazie a tutti!